2 1 vai 50 sinistra 4 apre sconnesso 50 allo spiazzo sinistra 2 per subito destra 6 apre 80 destra 4 apre per subito allo spiazzo sinistra 3 30 sinistra 4 apre 30 al ponte fra i muri destra 2 30 30 sinistra 3 per subito destra 3 apre destra 3 apre 30 al palo sinistra 3 subito subito destra 5 tra i muri 5 tra i muri 80 sinistra 4 lunga subito al rail destra 5 destra 5 50 sconnessi attenzione sinistra 2 per subito destra 5 stai sinistro per destra 2 apre 2 apre destra 50 al rail di sinistra 3 lunga lunga 3 lunga lunga in ai bidoni destra 4 apre destra 4 apre 50 alla cassa sinistra 4 per destra 4 lunga 4 lunga 80 a rovescio anticipa sinistra 4 per subito destra 5 in sinistra 3 lunga gira attenzione 80 sinistri al rail al rail destra 5 per sinistra 4 subito al rail destra 4 destra 4 per sinistra 5 subito destra 5 in sinistra 5 80 destra 5 per subito anticipa sinistra 5 5 in alla cassa già la destra 5 lunga lunga non tagliare non tagliare alle gomme sinistra 5 chiude 3 alla rete 2 tempi 5 chiude alla rete 3 2 tempi 2 tempi per destra 4 destra 4 stai sinistro per destra 3 in destra 5 80 sinistri destra 5 corta subito subito sinistra 1 gira bravo 30 destra 3 apre 80 al bidone sconnesso anticipa sinistra 3 sinistra 3 per destra 6 50 50 sinistra 5 sinistra 5 in al rail destra 5 chiude al palo attenzione 3 al palo chiude 3 in alle gomme sinistra 5 in alle gomme sinistra 5 apre 100 destri 100 destri alle gomme sinistra 3 meno 3 meno 50 destri attenzione attenzione tra muri sinistra 2 2 per subito ai bidoni destra 5 apre destra 5 apre e destra 4 sporca taglia in uscita 30 anticipa sinistra 5 in uscito destro in sinistra 4 per subito destra 5 lunga sporca interno lunga lunga sporca interno 50 sinistra 6 per destra 6 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 6 sotto bosco sinistra 4 30 al voto destra 3 gira eh 3 gira qui 30 destra 3 lunga lunga apre 3 lunga lunga apre 80 occhio inizio del sistema 3 chiude 2 meno gira occhio eh chiude 2 meno gira sinistra 4 per destra 4 subito sinistra 3 apre sinistra 4 sinistra 3 apre attenzione a inizio re in destra 3 lunga 3 lunga subito subito sinistra 3 apre 3 apre anticipa sinistra 4 per interno destra 4 destra 4 30 sinistra 4 lunga 4 lunga 30 destra 4 chiude 2 questa chiude 2 subito subito sinistra 3 apre 3 apre 100 destri al cartello destra 3 lunga per sinistra 5 chiude 3 3 lunga per sinistra 5 chiude 3 5 chiude 3 occhio eh 5 chiude 3 50 destra 4 apre 4 apre 50 al poggio destra 4 lunga 50 a inizio rail attenzione destra 4 subito subito sinistra 2 50 a spacco rail destra 5 lunga dopo gomme in anticipa sinistra 5 per destra 2 lunga sporca subito subito anticipa attenzione sinistra 2 sinistra 2 30 destra 5 in anticipa sinistra 5 per destra 4 destra 4 in a cartello in a cartello sinistra 5 80 sinistri al cartello a rovescio destra 6 80 destri sinistra 1 che c'è eh? no no 50 al burro destra 4 apre per anticipa sinistra 5 sinistra 5 nella linghiera blu destra 5 30 destra 4 per subito sinistra 3 3 è questa al cartello destra 6 per subito sinistra 4 sinistra 4 destra 4 lunga sporca non tagliare subito anticipa sinistra 4 per destra 3 per sinistra 3 sinistra 3 anticipa anticipa destra 5 30 inizionare sinistra 3 per subito destra 3 apre eh? destra 3 apre 100 sinistri destra 6 chiude all'ultimo rovescio chiude 4 in all'ultimo rovescio sinistra 4 lunga apre 4 lunga apre attenzione in inizionare anticipa sinistra 4 chiude 3 a rail chiude 3 a rail subito tra l'inghiere destra 2 destra 2 qui riesci stai sinistro per destra 3 destra 3 subito sinistra 3 30 destra 3 lunga apre 3 lunga apre 100 destri attenzione staccata a cambio asfalto sinistra 3 apre sporca eh? sinistra 3 apre sporca eh? 80 destri sinistra 3 sinistra 3 subito alle l'inghiere destra 3 apre 80 destri allo spiazzo sinistra 4 tranquillo eh? sinistra 4 tranquillo eh? apre 50 sinistra 3 lunga gira non tagliare eh? non tagliare 50 al palo imposta sinistra l'inghiere destra 3 2 tempi 2 tempi subito in inizionare l'attenzione sinistra 2 sporca 2 sporca per destra 4 lunga lunga chiude 3 alla l'inghiere chiude 3 alla l'inghiere a rail sinistra 3 apre 2 tempi 3 apre 2 tempi 80 sinistri sporco a rail destra 3 diventa 2 allo spiazzo 2 tempi eh? diventa 2 per subito sinistra 4 sinistra 4 tra rail anticipo a destra 3 per subito a rail sinistra 3 in destra 4 per sinistra 3 diventa 1 alla legna per destra 5 50 alla l'inghiere blu sinistra 3 in destra 5 3 in destra 5 subito a sinistra 4 lungo attenzione ai bidoni destra 6 corta stossa sinistra 4 attenzione attenzione destra 2 destra 2 qui eh occhio per sinistra 2 attenzione olio eh qui sinistra 2 30 sinistri destra 5 in al muro destra 5 50 al lampione molto sporca sinistra 3 sdossa qua su sinistra 3 corta sdossa 30 destri subito subito sinistra 2 scivola questa 100 sinistri stacca sconnesso al cartello attenzione tornante destro molto sporco non tagliare non tagliare 30 sinistra 5 per attenzione destra 4 chiude 3 eh 4 chiude 3 che sinistra 3 apre 3 apre 100 destri stacca prima tornante sinistro attenzione scivola 80 80 sinistri a fine campo 80 sinistri a fine campo attenzione destra 2 non tagliare 2 non tagliare 80 destri attenzione al rosso sinistra 2 anticipa sinistra 2 per anticipa destra 3 apre 100 100 destri 100 destri stacca sporca rosso ci sta 2 lunga lunga questa 2 lunga lunga per destra 2 gira sporca 2 gira sporca questa attenzione sdossa in sinistra 4 per destra 6 per destra 6 50 destra destra 4 lunga destra 4 lunga questa 50 sinistri destra 5 anticipa sinistra 5 subito subito attenzione destra 3 gira per tornantone sinistro scivola questo 50 sinistra 5 30 segretta tornante destro non tagliare destro non tagliare all'ulivi sinistra 6 50 destra 3 occhio 3 per sinistra 4 bravo giovane tutto ok? perfetto tutto preciso tutti i riferimenti buoni se mi lascio pigliare la mano te grida ma il riferimento è buono sì sì vai avanti avanti fa due passi più 2 2 3